buonasera ciao alberto ciao doc un'altra puntata di vita da professionisti bellissimo tu hai una vita veramente molto articolata sicuramente molto molto polietrica perché oltre a fare produttore ti conosciamo tantissimo come chitarrista acustico negli ultimi anni di fatto hai fatto un mare di lavoro anche live anche con grandi artisti come come turnista raccontaci un po pure questa parte perché dentro non c'è diciamo non solo la storia di con chi è suonato ma qualche aneddoto qualche cosa di particolare che oggettivamente da casa quando sono in una tua stanza non te la immagini vero ho fatto un sacco di tour con cantanti italiani ma soprattutto suonando la chitarra elettrica è quella da cui vengo e con la quale sono cresciuto mi viene in mente forse il primo tour che feci nei primi anni 2000 è stato con barbara cola che aveva fatto sanremo con morandi in quel momento era proprio sulla cresta dell'onda facendo un bel paio di tour belli intensi poi ne sono arrivati altri c'è stato barba rossa che è stata una bella esperienza perché luca ha un repertorio musicale molto interessante che attinge molto al mondo di james taylor quindi lì ho imparato molto alcune delicatezze tipiche di landau insomma dei chitarristi che suonano con taylor perché a luca piaceva molto col suono lì poi negli ultimi anni c'è stato di cataldo massimo di cataldo che grande professionista grande cantante canta benissimo dal vivo è un piacere suonare con lui pure per questo perché comunque il risultato finale è molto molto intenso molto bello e ultimamente c'è anche questa cosa delle dei tributi molti amici professionisti si stanno associando ad alcuni tributi importanti io per esempio lavoro con la rino gaetano band che è legata alla famiglia di rino gaetano alla sorella in particolare quindi è proprio quella ufficiale diciamo che ha una forma di ufficialità è difficile parlare di ufficiale per un tributo però sì in un certo senso lo è perché c'è una sorta di bolla della famiglia tra l'altro il figlio della sorella di rino canta nel gruppo e facciamo delle cose molto belle diciamo che è una grande novità degli ultimi anni che questi gruppi riescono a fare dei palchi importanti quindi diciamo un po questi sono le mie attività degli ultimi anni che cosa ti è capitato di vivere qualche aneddoto che non avresti mai scoperto fuori da quelle situazioni là ci sono delle cose interessanti una che mi ha fatto far impazzire il tecnico che costruisce uno dei pedali che uso che sono secret fx sono dei pedali bellissimi ne ho due ho il compressore e l'overdrive e li uso come base del suono suonando su palchi molto molto grandi ma soprattutto con dei volumi molto alti e dei sub giganteschi ho confuso per molto tempo un malfunzionamento dei pedali con qualcosa che invece era più legato alla mia percezione del suono e ho fatto diventare pazzo il tecnico perché lui è un caro amico guido il ragazzo che costruisce questi pedali e insieme cercavamo di capire se non ci fosse qualche difetto di costruzione di costruzione che in alcune circostanze climatiche addirittura climatiche tipo molta umidità viaggi molto lunghi sul pulmino quindi tanto calore sul pedale potesse alterare la risposta di alcuni componenti in realtà era solo la mia percezione volumi molto alti sub molto presenti tantissime frequenze medie che arrivavano magari dal monitor del tastierista che compete con la come spettro di frequenze il suono sembrava completamente diverso sembrava scarico di medie tutti acuti molto frizzanti in realtà era un misto magari una spia non molto bella un monitor non molto bello un volume eccessivo da parte del tastierista che sono peggio di chitarristi amici fonici scrivetevi questa cosa che tutto dire i tastieristi sono il vero nemico del volume sul palco nonché il rullante del batterista e il bassista c'erano tutti con i chitarristi c'erano tutti con i chitarristi non siamo gli unici responsabili comunque e quindi questo volume molto alto sul palco si traduceva in una percezione errata di quello che era il suono realmente che usciva dal dal mio amplificatore e dalla spia ho risolto la cosa lavorando con gli near da quando uso gli near diciamo in maniera più consistente o anche degli near molto buoni della ultimate years questo problema è sparito quindi non poteva necessariamente non poteva essere un problema di costruzione ma non me ne sarei mai accorto se non lavorando su quei palchi però è esatto cioè evidentemente passa per la professionalità del tuo lavoro fare quelle esperienze che poi ti aiutano a risolvere situazioni come questa semplicemente non andare da un neuropsichiatra perché ci stavamo andando io e anche il costruttore dei pedali purello l'ho tirato proprio scemo però oggettivamente io sentivo un suono diverso era dovuto al fatto che il timpano comunque comprime il suono sotto un certo livello di decibel e tende a far passare alcune frequenze che arrivano diciamo maggiormente dalla tastiera passano più quelle che quelle della chitarra quindi in quella compressione la chitarra è penalizzata su alcune frequenze e sembra che il suono sia diverso in realtà non lo è è come lo percepisci senti per esempio lavorare o suonare davanti a 50.000 30.000 persone come ti è capitato anche con un altro artista italiano daniele groff sì in realtà era il tour con renato zero abbiamo fatto gli stati ah quindi ok c'era eravamo l'apertura di renato zero com'è il gestire anche l'ansia tra virgolette di una performance davanti a tutta quella gente e magari fare un parallelo con i club che invece visiti come un chitarista acustico allora è una cosa stranissima cominciando pochi anni avendo cominciato pochi anni fa a suonare la chitarra finger picking è una cosa sulla quale ancora mi sento meno sicuro che sulla chitarra elettrica e oltretutto è un genere particolarmente complesso dove se ti sbagli non c'è una band a coprirti e se fai un errore a volte è difficile è facile anzi perdere il filo del discorso dell'arrangiamento quindi quando sono davanti a 10 persone del finger style in un localetto piccolo anche nel soggiorno di qualcuno mi viene l'ansia davanti a 30.000 persone con la chitarra elettrica anche a fare un solo di 5 minuti non ho nessun problema quindi direi credo di aver raggiunto la consapevolezza che il vero significato dell'ansia da palcoscenico è legato al giudizio che uno teme che le persone abbiano di sé quindi se ho paura che le persone non mi giudichino all'altezza mi viene l'ansia se questa sensazione l'ho persa perché magari sono 30 anni che faccio sempre la stessa cosa su palchi piccoli grandi medi allora questa sensazione viene meno nonostante potenzialmente potrebbe essere molto maggiore perché palco di uno stadio che poi con Daniele Groff suonavamo poco prima di Renato da soli io e lui con due chitarre acustiche davanti a 30.000 persone in uno stadio quindi potenzialmente potrebbe anche essere una situazione ancora più ansiogena invece non c'era nessuna ansia l'ansia viene quando hai paura che le persone che ti guardano ti vedano cadere e devo dire che questa cosa la supero oggi in particolare dopo questo tour americano posso dire di aver trovato una piccola formula per superare l'ansia che è questo è chi sono io questo è quello che ho fatto come dice il mio amico Sean Mancher che fa anche la pizza oltre a essere un grande chitarrista a Portland nel Maine questa è la grande Sean questa è la pizza che ho fatto vedi se ti piace questo atteggiamento un po' umile un po' di condivisione tende a spegnere l'ansia da prestazione che è una gran cosa bene senti un'altra cosa importante quando diciamo sei in una in un tour ci sono tantissime cose da gestire cioè i suoni prepararsi i pedali prepararsi amplificatori le valvole di ricambio setup strumenti cose ma c'è un'altra cosa che sicuramente avrai vissuto e vorrei sentire la tua ma i trasporti tra un posto e l'altro qual è il vero la vera difficoltà allora io devo ammettere che sull'aspetto tecnico sono un po' un cialtrone se mi dovesse succedere qualcosa sarei totalmente impreparato forse se lavorassi in contesti dove c'è una maggiore ansia devo dire la fortuna che ho di lavorare con tutti i gruppi dove non c'è una grandissima ansia da parte dell'artista o da parte della di una produzione c'è sempre un clima molto rock cioè andiamo a fare del rock and roll quindi non c'è questa inquadratura come ci può essere in un'orchestra come quella di sanremo quindi se succede qualcosa pazienza qualcosa ci inventiamo anche all'ultimo e per quello che riguarda invece la seconda parte della tua domanda devo ammettere che la vera difficoltà di fare questo mestiere è affrontare i viaggi e affrontare gli alberghi che non sempre sono il massimo della vita i pasti che a volte non sono il massimo della vita anche perché l'autogrill offre quello che offre in america non ne parliamo in germania non ne parliamo quindi ho raggiunto la convinzione che ormai la vera ragione per cui un musicista è pagato non è per suonare ma è per viaggiare su un pulmino scomodo stretti per viaggiare su un aereo che devi magari prendere alle 5 di mattina oppure per dormire in un albergo che non è esattamente l'ilton queste sono le cose per cui veramente poi alla fine uno pretende un minimo di compenso perché se fosse solo per suonare io lo farei anche gratis bene bene grazie alberto anche questo lato live tuo lo stiamo un po scoprendo e sicuramente ci sono begli spunti per chi non ancora non immagina bene quante complicazioni ci possono essere in quest'altra parte del lavoro ah ce ne sono tante altre si 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 vabbè poi è ovvio che magari ce lo possiamo rivedere pure in altre puntate espandiamo grazie ci vediamo alla prossima ciao